Bentornati ragazzi, bentornati. Sono Giovanni e oggi sono qui per affrontare insieme a voi alcuni argomenti riguardanti la Lazio di quest'anno, riguardanti soprattutto la difesa della Lazio, una difesa che in queste ultime giornate non ci sta deludendo come era abituato a fare l'anno scorso per esempio. Volevo riaprire un discorso che avevo aperto circa un mese fa sul canale sulla difesa 3 e difesa 4 dove vi ho parlato delle differenze tra una difesa 3 in questa Lazio e una difesa 4 in questa Lazio perché io ripeto, a parte che la Lazio non ha i giocatori per fare la difesa 4, secondo me i problemi difensivi della Lazio dell'anno scorso non erano dovuti al modulo, il modulo secondo me non centrava niente, non è mai centrato niente e non ha mai influito sulle prestazioni negative della squadra in difesa e sui tanti gol subiti. Secondo me era una semplice questione di preparazione, l'anno scorso c'era davvero poca preparazione, Leiva si trovava in molti casi isolato a coprire la difesa senza nessuno accanto. Quest'anno invece Inzaghi ha impostato la fase difensiva in maniera completamente diversa e secondo me ci ha lavorato molto, infatti non so se avete notato Milinkovic-Savic gioca nettamente più dietro. Inzaghi ha indietreggiato Milinkovic-Savic costringendolo ad aiutare di più in fase di copertura, infatti la Lazio quest'anno prende meno imbucate, la maggior parte dei gol che la Lazio prende quest'anno nascono da palla inattiva, contro il Francoforte abbiamo preso gol da palla inattiva, contro la Roma abbiamo preso due gol da palla inattiva, contro l'Udinese abbiamo preso gol da palla inattiva, contro il Marsiglia abbiamo preso gol da palla inattiva, anche contro l'Apoloni-Massol credo, non voglio sbagliarmi. Sì, prendiamo meno imbucate, prendiamo meno imbucate, siamo nettamente più organizzati lì dietro, grazie anche appunto ai centrocampisti, grazie ad un lavoro più sporco, chiamiamolo così, il lavoro più sporco da parte di alcuni centrocampisti come Leiva Parolo e Milinkovic-Savic, infatti Milinkovic-Savic si fa vedere di meno lì davanti e aiuta di meno, contribuisce di meno alla fase offensiva, cosa che per esempio faceva l'anno scorso, ecco, è questa la vera differenza ragazzi che sta secondo me influenzando le prestazioni di Milinkovic-Savic, si deve abituare. Adesso se noi non consideriamo i big match, su quelli ancora si deve lavorare molto, contro Roma-Napoli-Juventus, la Lazio in sei partite ha preso soltanto due gol, due gol nati da due errori individuali, l'autogol di Badel-Udine e l'errore individuale clamoroso di Acerbi sul gol di Piontek. Le partite contro Roma e Francoforte secondo me sono stati degli incidenti di percorso, i derby sono sempre partiti a sé e di solito quello che succede in un derby non succede mai nelle altre partite, quindi non mi va sinceramente di... Volete vedere il gol di Ronaldo? Perché ha appena fatto un gol clamoroso, io mi sono fermato, così. Che cazzo di gol. Comunque, scusate ragazzi per questa interruzione, ma ha fatto un gol così. Sbam! Allora, incidenti di percorso, il derby che ci ha fatto crollare mentalmente e siamo andati a Francoforte con un morale disastroso, con un morale a pezzi, e ne abbiamo presi quattro, anche se a Francoforte non abbiamo giocato male. La Lazio non ha giocato male a Francoforte, ci è andato tutto male, ci è andato tutto male, abbiamo le due espulsioni, l'infortunio di Dormisi a inizio partita, il gol preso dopo due secondi, il gol preso un secondo dalla fine, ci è andato tutto male e ci sta. Ma se noi non consideriamo il derby e la trasferta di Francoforte, la Lazio le altre partite le ha sempre giocate con un'attenzione maggiore, con un'attenzione maggiore e le ha sempre giocate molto bene, ecco, con una certa determinazione. Grazie appunto anche all'ottima fase difensiva. Radu è un giocatore fondamentale, è un giocatore fondamentale, è tornato dopo la trasferta di Francoforte e ha rimesso a posto una difesa completamente allo sbaraglio, vincendo appunto, permettendo alla squadra di vincere contro la Fiorentina, contro il Parma e contro il Marsiglia, facendo sei gol e subendone soltanto uno, tra l'altro da 30 metri, 30-35 metri. Il Parma non ha fatto un tiro in porta, Stracoscia non ha fatto una parata a Marsiglia e contro la Fiorentina ha fatto soltanto una parata a Stracoscia su Benassi, su un errore in impostazione di Wallace, quindi non stiamo neanche parlando di errore in fase difensiva, stiamo parlando di un errore individuale in fase di impostazione di un giocatore molto scarso tecnicamente. Ecco, parliamo di Wallace, ragazzi, volevo parlarvi anche di Wallace. Wallace può essere il quarto difensore di cui la Lazio ha veramente bisogno. La Lazio ha bisogno di un quarto difensore che possa essere tanto affidabile, tanto affidabile, ecco. Wallace a Marsiglia ha dimostrato di essere affidabile e non lo ha dimostrato soltanto a Marsiglia, lo ha dimostrato anche in altre occasioni, come per esempio a Toino, nella seconda di campionato, in marcatura su Ronaldo. Wallace ha giocato, le due migliori partite di Wallace quest'anno sono state nelle due partite più difficili che ha giocato. Contro Juventus e Marsiglia, perché credo non abbia giocato contro Napoli e Roma. No, Wallace non ha giocato contro Napoli e Roma. Ha giocato contro Juventus e Marsiglia le due partite più difficili e sono state le due partite migliori di Wallace. Questo va a dimostrare che Wallace, ragazzi, non è un difensore scarso. Non è un difensore scarso, è un difensore incompleto che ha i suoi difetti tecnici, ha i suoi difetti tecnici perché tecnicamente non è affidabile. Ecco, tecnicamente non è affidabile, però secondo me è un difensore affidabile. Può essere un difensore affidabile, l'ho dimostrato a Marsiglia, perché è un difensore che quando è concentrato fa sempre bene. Wallace ha tanti cali di concentrazione, è questo il problema principale del giocatore brasiliano. Ha tanti cali di concentrazione, l'errore contro la Fiorentina di cui vi parlavo prima è un calo di concentrazione, è un errore dovuto ad un calo di concentrazione. Pure contro Frosinone si è perso palla tra i piedi ed è cascato per terra regalando palla a un giocatore del Frosinone. Anche quello lì è un calo di concentrazione, è un giocatore che ha molti cali di concentrazione, ma se riesce a tenere la concentrazione alta, l'attenzione alta per 90-95 minuti, secondo me può essere il quarto difensore di cui questa squadra ha bisogno. Ci sarà molta alternanza tra lui e Luis Felipe in questa stagione, perché Luis Felipe è più adatto per alcune partite, mentre Wallace secondo me è più adatto per altre partite, visto che sono due difensori molto diversi. Luis Felipe per esempio è molto bravo nell'uno contro uno ed è più veloce di Wallace. Wallace invece è più bravo negli anticipi, è più adatto nel marcare giocatori fisicamente più forti. E' per questo che ha giocato a Marsiglia ed è per questo che Luis Felipe ha giocato a Parma, per esempio, contro una squadra di contropiede come il Parma ha giocato Luis Felipe. Secondo me Wallace infatti non avrebbe dovuto giocare ad Empoli, perché l'Empoli è una squadra che lì davanti ha molti giocatori bassi, veloci, che fraseggiano in maniera molto veloce. Infatti Wallace non ci ha capito niente, però per fortuna abbiamo preso zero gol. Anche con Wallace in campo contro il Frosinone abbiamo preso zero gol, tra l'altro subendo pochissimi ti rimporta. Nel senso che io sono soddisfatto fino adesso delle prestazioni di Wallace, che ripeto ha molti cali di concentrazione e secondo me Inzaghi è su questo che deve lavorare. Bastos e Cazares, ragazzi non so veramente che dire, sono giocatori poco affidabili secondo me nella difesa a tre, nel tiridente difensivo Cazares più adatto a giocare sulle fasce. Comunque ditemi cosa ne pensate nei commenti ragazzi, lunedì c'è Lazio-Inter, se ovviamente in caso non fosse rinviata per maltempo, spero che non lo sarà, perché sono curioso, sono curioso, partita interessante da due squadre che stanno dimostrando di essere molto organizzate, molto quadrate e infatti secondo me non sarà una bella partita, non sarà una bella partita e ci saranno pochi gol, al contrario di quella dell'anno scorso che ci condano, quindi serve una rivincita. Ragazzi forza Lazio sempre e per sempre, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo più là, ciao!